rieccoci vi vado a mostrare ora un po di calamite allora c'è questa questo bel piattino con tre gelatini vedete la calamite dietro poi abbiamo una torta a forma di cuore ai mertilli ed è fatta così poi abbiamo un piatto di biscottini poi c'è un altro piatto di biscottini ancora biscottini sono sempre tutte calamite poi abbiamo un piatto con una mega amora non chiedetemi perché l'ho fatta così mi è uscita così mi piaceva ero tenuto questa forse una delle prime che ho fatto e poi c'è un altro piatto di biscottini poi ho fatto delle calamite un po più particolari e ho fatto queste col vassoio in legno e la tazzuriella di cereali anche queste non so se ve l'ho detto sì comunque sono tutte calamite così poi ho fatto il vassoietto stile mcdonald con l'hamburger e le patatine poi abbiamo fatto la colazione coi waffle bicchierino waffle col burro il coltello poi abbiamo fatto la colazione coi pancake poi da brava valdostana abbiamo fatto il piatto di formaggi e per finire abbiamo il piatto col salame e voilà e niente e come nel video precedente se vi possono interessare le mie creazioni contattatemi su instagram ciao e grazie